Ciao, bentornati su MrGadget.tech. Oggi vi parliamo di VPN. No, un altro video di NordVPN. Beh, se ne sapete già molto di VPN, avete già visto video dedicati a NordVPN, schippate e andate a cercare un altro video di Gattini. Ma se invece siete arrivati qui perché state cercando informazioni su che cos'è una VPN, perché utilizzarla e soprattutto come utilizzarla, beh, abbiamo un sacco di risposte utili per voi. Partiamo dalle fondamenta. Che cos'è una VPN? Quando parliamo di VPN parliamo di Virtual Private Network, ovvero di un accesso ad internet privilegiato che permette di avere una serie di vantaggi. In pratica, anziché avere il collegamento abituale che va dal vostro computer al vostro modem e dal vostro modem all'internet provider, in questo caso c'è una piccola deviazione, ovvero il vostro computer si collegherà attraverso sempre il vostro modem al server di chi vi offre il servizio, in questo caso NordVPN, e sarà questo server ad erogare una serie di vantaggi e di protezioni per poter navigare in modo più sicuro, più veloce e in alcuni casi anche più protetto. Sì, ma a che cosa mi serve una VPN? Quali sono gli usi reali? Allora, se dovessimo fare un elenco completo di tutto ciò che si può fare nella vita reale con una VPN, dovremmo prendere il vostro tempo e occuparne probabilmente un paio di settimane. In realtà cercheremo di essere molto più veloci. La prima cosa che permette di fare una VPN è quella di navigare in modo velocissimo. Spessissimo i vostri operatori telefonici limitano la velocità di navigazione e non solo perché tracciano anche ciò che fate online. Attraverso la VPN avete la certezza di avere la massima privacy e soprattutto di poter sfruttare la massima velocità. Ma non solo perché sempre attraverso la VPN avete un livello di protezione altissimo anche per i vostri acquisti online. Pensate che addirittura il livello di protezione è superiore a quello che viene garantito dalle transazioni della carta di credito. E se questo non basta avete anche un ulteriore vantaggio perché localizzandovi in un paese diverso dal vostro, questa è una delle possibilità che avete, no? Navigare dall'Italia ma far capire al server a cui vi collegate che siete ad esempio in Polonia, navigando in un paese diverso si possono ottenere dei vantaggi economici diretti. Ad esempio nelle tariffe dei voli aerei che in alcuni casi in determinati paesi sono più basse rispetto a quelle che si trovano in Italia. E poi c'è un ulteriore tema che è quello della sicurezza, soprattutto quando si naviga sul wifi pubblico. Attraverso la VPN avete un livello di protezione altissimo perché i vostri dati non vengano utilizzati in modo trasparente e quindi intercettabile attraverso il wifi gratis che spessissimo è una trappola pericolosissima. Cosa cambia tra una VPN gratis e una pagamento? Questa è una domanda che ci fate spessissimo anche su mrgadget.tech quando ci chiedete delle informazioni. Sono tantissimi i servizi gratuiti di VPN ma spesso non garantiscono la stessa velocità di navigazione ma soprattutto lo stesso livello di privacy. Questo è un tema fondamentale. Quando non si paga un servizio, questa ormai è una regola vecchia come il mondo, dovremmo averla scolpita nella nostra mente, quando non si paga un servizio vuol dire che il servizio e il valore siete voi. E quindi cosa succede? Perché spesso VPN gratis? Perché vengono raccolti i dati di navigazione che poi vengono condivisi con terzi e poi non c'è la stessa velocità di navigazione e non solo, non c'è lo stesso numero di server che si possono utilizzare che è un altro elemento molto importante di cui vi parliamo tra poco. E qui arriva la domanda successiva ma le VPN a pagamento sono tutte uguali? La risposta sintetica è no ma possiamo argomentare un po' meglio. C'è un tema di velocità, c'è un tema di tracciamento dei dati. Non tutte le VPN, anche a pagamento, vi garantiscono il fatto che la navigazione sia del tutto anonima. E poi ci sono i servizi avanzati. Noi abbiamo scelto di realizzare questo video in collaborazione con NordVPN perché usiamo i loro servizi da tempo e ne conosciamo la qualità altrimenti non ci saremmo resi disponibili. Ci sono tantissimi servizi avanzati come Meshnet, come Threat Protection, come la gestione della scansione del Dark Web. Sono tutte funzioni supplementari incluse nel prezzo dell'abbonamento che fanno la differenza tra una VPN normale e una VPN di altissima qualità come NordVPN. E quali servizi integrativi offre NordVPN? Ve l'abbiamo già detto, lo ripetiamo per massima trasparenza, questo è un video realizzato in collaborazione con NordVPN, ma non avremmo accettato di farlo se noi non fossimo stati già da tempo utenti dei loro servizi e utenti della loro VPN. In primo luogo, uno dei servizi importanti, integrativi, è quello del numero dei server a disposizione. Potete collegarvi da qualunque zona del mondo, ma soprattutto nei singoli paesi avete anche più server a disposizione e questo fa davvero la differenza soprattutto per il fatto che molti servizi VPN che hanno pochi server ormai sono stati individuati dagli internet providers e anche dagli fornitori di servizi ed è per questo che quando vengono identificati spesso vengono bloccati. Questo non succede con NordVPN. Molto importante il tema della threat protection. NordVPN integra infatti un sistema di protezione che vi tutela da malware, dai tentativi di phishing, addirittura può arrivare a scansionare i file che voi scaricate per essere sicuri che non contengano alcun tipo di rischio per i vostri dispositivi. E questo è veramente un aspetto molto importante perché la navigazione in internet sia sempre sicura anche quando si usa il wifi pubblico o si entra in alcuni siti che diciamo non sono proprio trasparenti nella loro gestione. C'è un altro aspetto che non è da poco, il fatto che venga bloccata anche la pubblicità invadente e non solo perché vengono bloccati anche i tracker. Quindi tutti quei meccanismi che registrano ciò che noi facciamo su internet, raccolgono informazioni e poi le mettono insieme a disposizione di terzi, vengono inibiti. C'è un altro servizio importante che si chiama MeshNet. Questo forse è dedicato a un tipo di utente un po' più sofisticato che diciamo vuole un utilizzo un po' più elaborato dei propri dispositivi e anche un collegamento tra i propri dispositivi che non è proprio da tutti. Però pur essendo un'architettura complessa in realtà MeshNet è resa molto semplice. Di che cosa parliamo? Parliamo di una rete privata ovvero voi potete collegare tutti i vostri dispositivi tra loro attivando proprio la funzione MeshNet e quindi ad esempio essere in grado di accedere quando non siete a casa al vostro computer perché vi serve un particolare file. La figata pazzesca è che a questa rete possono partecipare anche computer di coloro che non sono abbonati a NordVPN. Basterà semplicemente erogare il vostro invito e questo ad esempio può servire per i nuovi controlli di sicurezza di Netflix perché tutti i computer risulteranno collegati ad un unico IP in un unico luogo e quindi in questo modo i controlli di sicurezza di Netflix verranno schippati. Ma non glielo diciamo. Se tutto questo non vi basta c'è un altro livello di protezione il Dark Web Monitor che scansiona le parti oscure della rete per avere la certezza che la vostra posta elettronica vostri nomi utenti e password siano al sicuro. Non è scontato che lo siano non sono tutti capaci di individuare eventuali falli di sicurezza con credenziali personali Dark Web Monitor di NordVPN lo fa al posto vostro. E nel caso voi aveste alcuni servizi che non gradiscono l'uso di VPN può essere ci sono alcuni sviluppatori che inibiscono l'uso di VPN potete semplicemente usare lo split tunneling anche in questo caso basta un click per dire che una determinata applicazione non passerà attraverso la VPN ma si collegherà direttamente a internet come ha sempre fatto. Questo è un'ulteriore semplificazione davvero molto 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 immediata. C'è da dire che altrettanto immediato è anche l'uso della protezione automatica quando voi accedete ad una rete che non è amica che non è garantita che non è sicura la protezione della VPN entra automaticamente in funzione senza che voi dobbiate fare assolutamente nulla e per voi non cambia assolutamente niente. Ah c'è un altro tema fondamentale molti siti internet e internet provider ormai riconoscono le VPN e tendono ad impedire di visualizzare contenuti quando si accede con la VPN. questo però non succede con NordVPN perché grazie ai server offuscati sarà impossibile per questi soggetti capire che voi state accedendo da una VPN e quindi non avrete blocchi di questo tipo. Peraltro non ci siamo detti una cosa importante cioè dove come utilizzare NordVPN che potete scaricare su Mac su Windows su Android su iPhone su iPad su qualunque dispositivo abbiate a disposizione per accedere con estrema facilità e non avete limiti tra l'altro nell'uso dei dispositivi. Oltre a questo c'è un altro tema importante ci sono alcuni modem in cui è possibile installare direttamente dentro il modem la protezione della VPN ci sono istruzioni molto chiare sul sito di NordVPN per avere una protezione garantita a tutti coloro che si collegano direttamente a quella rete. Devo dire che da questo punto di vista il funzionamento è veramente molto molto semplificato cambiare paese ad esempio quindi simulare di navigare dalla Polonia piuttosto che dalla Francia o dall'Inghilterra è a distanza di un click un sistema molto complesso ma estremamente facile da usare. Abbiamo un'altra domandona per voi perché è importante avere diversi server nello stesso paese? NordVPN dopo i server di Milano ha lanciato anche quelli di Roma questo è un dato molto importante perché la distanza dal server può incidere sulla latenza e anche sulla velocità di navigazione in questo caso grazie ai server di Roma ad esempio chi vive al centro-sud può avere un'esperienza d'uso simile identica anzi a quella di chi vive al nord e che sta in prossimità dei server di Milano questo è importante anche per alcuni servizi locali perché avere un server di accesso vicino alla zona in cui ci si trova permette di avere informazioni più dettagliate quindi un ulteriore vantaggio che non ha un supplemento di prezzo e qui arriva la domandona sì tutto bene tutto a posto ma quanto costa NordVPN e soprattutto quali vantaggi se faccio un abbonamento più lungo ad esempio un abbonamento biennale beh questo tema importante è impossibile riuscire a dirvi adesso quali possano essere le offerte in essere perché cambiano in continuazione perché ci sono delle stagionalità perché ci sono magari delle offerte temporanee però c'è un principio chiaro e che vale per sempre cioè che più lungo è l'abbonamento e più grande il vantaggio pensate che con un abbonamento biennale arrivate addirittura ad uno sconto che è intorno al 66% per alcuni dei piani questo vuol dire che il costo mensile scende drasticamente e diventa davvero irrisorio per tutto ciò che NordVPN vi offre noi siamo perfettamente consapevoli del fatto che il tema della sicurezza non sia mai stato così sentito da alcuni utenti però in realtà poi capita che vi clonino la carta di credito che rubino l'account sui social e vi chiedete perché perché non avete protetto la navigazione nel modo corretto ecco perché diventa importante avere uno strumento sofisticato da un lato semplice da usare dall'altro come NordVPN questo è un video realizzato in collaborazione con NordVPN non lo avremmo fatto ve lo abbiamo già detto ve lo ripetiamo se non fossimo utenti convinti dei loro servizi e se non fossimo utenti convinti del fatto che la VPN oggi diventa uno strumento fondamentale da un lato per la protezione dall'altra anche per divertirsi un po' cioè accedere ad esempio ai contenuti televisivi inglesi piuttosto che americani comprare biglietti ad un prezzo più contenuto andare online e riuscire ad acquistare magari anche in posti che non accetterebbero acquisizioni dal nostro paese quindi insomma i vantaggi possono essere molteplici e il costo è veramente contenuto per qualunque domanda siamo come al solito a vostra disposizione ci troviamo prestissimo su mrgadget.tech ciao Grazie Grazie